Buon pomeriggio, Iose, fin sono tornato a Macerata e ho intenzione di farti tremare la cosina tutti i giorni. Dicono che io e Chiara, coppia strepitosa, con i nostri modi cattolici, umiliammo le scrofe, aliene, mafiose, puttane, beduine di Allah, che per loro stessa ammissione, il clone Chiara Mancini che mi assegnarono apparteneva al terribile ordine delle Benedette e si doveva comportare nei miei riguardi in maniera algida e al tempo stesso furbetta, tant'è che addirittura il coionotto maceratese decise a malincuore che quella storia non poteva più andare avanti. Tuttavia, in seguito, accadde qualcosa di clamoroso. Ci vediamo nei prossimi video-messaggi!